Ciao a tutti! Cosa sta pensando? Cosa prova in questo momento e cosa farà nei prossimi giorni? Bene, con questo interattivo ti voglio spiegare appunto la persona che ti interessa, quindi pensa alla persona che ti interessa, che cosa sta pensando, che cosa prova in questo momento e cosa farà nei prossimi giorni. Quello che devi fare è scegliere o il colore blu o il colore rosso o il colore nero e pensare alla persona che ti interessa. Per prima cosa però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco dove troverai degli spunti secondo me anche interessanti e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare se vorrai farmi delle domande, se hai delle domande da fare ti puoi abbonare al canale e abbonando ti potrai farmi tutte le domande che desideri a cui darò risposta in diretta per te in apposite live a cui solo ovviamente gli abbonati possono partecipare. E adesso vediamo cosa sta pensando, cosa prova in questo momento e cosa farà nei prossimi giorni. Ma ti voglio ricordare ancora una cosa prima. Se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, gratuitamente ovviamente, crescita personale ma anche felicità benessere, il canale Massimo Terramasco, il canale Amore Autostima, entrerai a far parte della più grande community italiana e speriamo presta europea per quanto riguarda l'amore, la seduzione, il benessere esistenziale, la crescita personale e ti darà poi diritto a partecipare a eventi, a gruppi, insomma dove conoscere persone nuove, fare nuove conoscenze, avere nuovi contatti e questo penso che possa essere per te una cosa buona e giusta. Bene, e adesso vediamo a cosa sta pensando, cosa prova in questo momento, cosa farà nei prossimi giorni. Quello che devi fare, quindi ti ripeto, è scegliere o il colore blu o il colore rosso o il colore nero. Io inizio a togliere il nero, inizio a togliere il rosso e iniziamo dal blu. Cosa sta pensando? Allora, diciamo che i suoi pensieri sono pensieri legati più alla spiritualità, quindi una persona che ha dei pensieri elevati nei tuoi confronti. Cosa prova a te in questo momento? Diciamo che prova sicuramente un'attrazione combattuta però, come dire, come se ci fosse un antagonista nella sua vita, quindi come se il suo pensiero fosse diviso, diciamo, tra altre due persone, un po' sentimenti un po' divisi. E nei prossimi giorni cercherà comunque di manifestare la sua attrazione, perché ha comunque una forte attrazione verso di te, quindi questa attrazione verrà sicuramente fuori. Diciamo che è una persona che si comporta anche in modo molto naturale, quindi saranno dei comportamenti che metterà in atto naturali, spontanei, che andranno a essere, diciamo, collegati molto proprio all'attrazione, che da un certo punto di vista prova per te un'attrazione anche forte, un'attrazione anche solida, che ha comunque verso di te un'attrazione che si manifesterà in modalità molto molto diverse. Però sicuramente in modo totale, diciamo, ha un interesse forte, davvero forte nei tuoi confronti. E probabilmente azzarderà anche qualcosa, qualche avance magari un po', come dire, azzardata. Cercherà una sfida, anche perché comunque dentro di lui c'è anche il pensiero di un'altra persona. Ecco, quindi nasconderà anche probabilmente la presenza di questa persona. Ecco, da questo punto di vista non sarà molto trasparente, perché è l'attrazione, diciamo, che è per te tenderà ad offuscare un po' i suoi comportamenti, perché nel suo cuore comunque c'è anche quest'altra persona. Ecco, anche se è una persona precisa, ordinata, per cui penso che alla fine dovrà comunque manifestarsi in qualche modo attraverso una scelta cristallina. Vediamo un attimino se ci dice come andrà. Beh, vorrà prima approfondire la conoscenza, però è una persona iperlogica che vuole approfondire la conoscenza prima di sbilanciarsi, anche se per te, ripeto, provo un'attrazione molto forte, ha dei pensieri molto forti. Però ci sarà un rifiorire, quindi io credo che, vedendoti come un dono, potrà scoprire veramente l'esigenza di fare una scelta. Quindi è una persona che è davanti a una scelta, ma credo che le possibilità siano buone affinché possa scegliere sicuramente te. Diciamo che bisogna poi vedere quanto riesce a togliersi quest'altra persona dalla testa. Comunque nei tuoi confronti è anche un'estrema gratitudine. Quindi vedo la situazione, da questo punto di vista, tutto sommato buona per te, con buone possibilità di ottenere dei risultati anche importanti da questo punto di vista. Bene, questo è per quanto riguarda la stesa blu. Adesso passiamo alla stesa rossa e vediamo che cosa sta pensando, cosa prova per te in questo momento, cosa farà nei prossimi giorni. Allora, vediamo cosa sta pensando. Allora, diciamo che c'è qualcuno che gli sta mettendo probabilmente delle cattive. Sta parlando un po' male di te, gli sta parlando nelle orecchie male. Ma lui comunque, o lei, insomma, perché poi questo è un interattivo che può andare bene sia per lui che per lei, è comunque totalmente aperto nei tuoi confronti. Quindi prova un sentimento di apertura molto forte, quindi un legame molto, molto forte nei tuoi confronti. E cercherà di fare delle cose abbastanza prevedibili. Quindi di manifestarsi comunque, cercherà di manifestarsi, ma sarà una manifestazione prevedibile, quindi coerente con quello che sta dicendo. Anche se lui, o lei, ha la mente molto contorta. Quindi diciamo che il suo modo di pensare, il suo modo di agire, potrebbe apparire anche molto contorto e non devi lasciarti trascinare nel labirinto dei suoi pensieri, perché potrebbe essere, diciamo, qualcosa poi alla fine di estremamente negativo nei tuoi confronti per te. Quindi devi vedere un attimino di giocarti bene questa partita e se vuoi vincere la partita, devi cercare di entrare in una dimensione più trascendente, cercare di uscire un po' dall'immanenza ed entrare un po' nella trascendenza. Anche perché poi è una persona che dovrà chiudere anche qualche sentenza, qualcosa. Quindi, ma io credo che probabilmente avrà una causa di divorzio, qualcosa del genere, di separazione che concretizzerà. E l'unica cosa è che bisogna fare attenzione che possono esserci delle cose impreviste che possono manifestarsi. Quindi però sicuramente lui ha intenzione di, nei prossimi giorni, di creare una connessione forte con te. Quindi aspettati che ti possa cercare nei prossimi giorni. Perché poi alla fine devi esercitare però tu il libero arbitro e capire veramente che cosa vuoi. Ma questa persona ti contatterà a breve, diciamo così. Bene, anche per la stesa rossa è tutto. Passiamo alla stesa nera. Vediamo la stesa nera. Quindi cosa sta pensando, cosa provi in questo momento, cosa farà nei prossimi giorni. Vediamo la stesa nera. Allora, è sicuramente una persona che ha, diciamo, che cerca un'esperienza profonda nei tuoi confronti. Quindi sta pensando di conoscerti meglio, di conoscerti più a fondo. Questo è il suo pensiero. Pensa anche che tu sia la chiave giusta per poter entrare in contatto. Prova una connessione molto forte, probabilmente una connessione che proviene da vite passate, una connessione che si perde, diciamo così, nella notte dei tempi, ed è un qualcosa di veramente forte, di veramente interessante, che può manifestarsi in diverse modalità. Quindi è una persona che comunque è molto vitale, ha vitalità, ha vitalità da vendere, ha energia da vendere, ha forza, energia, forza vitale. E ha molta attrazione, per cui farà sicuramente nei prossimi giorni delle azioni nei tuoi confronti, di manifestare questa passione, questa attrazione, che prova fortemente. Ma ha anche dei sentimenti comunque puliti, col cuore. Quindi è una relazione che può svilupparsi questa, da un punto di vista poi molto positivo, molto positivo, e può dare sicuramente dei benefici energetici, per cui è probabile che ti faccia poi sentire anche meglio. Devi stare in equilibrio, restare in equilibrio, cercare di non sbilanciarti troppo, ma è una relazione che potrà dare veramente dei risultati molto molto belli, da un punto di vista sentimentale, effettivo. Bene, e anche per questa stesa è tutto, mi raccomando, se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonando ti potrai farmi delle domande specifiche, a cui risponderò. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, entrerai a far parte della più grande community europea, per quanto riguarda l'amore, la seduzione, il benessere, la crescita personale, e di conseguenza, in modo totalmente gratuito, partecipare ad appositi, diciamo, gruppi, eccetera, dove potrai sviluppare la conoscenza di nuove persone. Quindi iscriviti a tutti e quattro i canali, ed entra a far parte della più grande community europea, forse, per adesso italiana. Ciao!